Un'estate a bordo del treno in Toscana è gratis. È questa l'opportunità che la regione toscana offre per il secondo anno consecutivo a tutti i neo 18 anni che nel mese di agosto potranno viaggiare gratis a bordo dei treni regionali. La regione infatti vuole incentivare l'uso del treno da parte dei giovani che per usufruire di questa offerta dovranno richiedere la smart card unica Toscana. Durante tutto il mese di agosto potranno viaggiare in treno gratuitamente per raggiungere la costa, per visitare le nostre città d'arte, per visitare le nostre vallate delle aree interne e per conoscere magari e scoprire quella Toscana più nascosta fatta di tanti borghi che sono bellissimi. Per quanto riguarda il rimborso degli abbonamenti non utilizzati durante l'emergenza Covid da studenti e pendolari, l'assessore regionale Trasporti Vincenzo Ceccarelli ha voluto sottolineare che presto si dovrebbe sbloccare la situazione. Il rimborso è stato finanziato dal governo con il decreto rilancio, tuttavia il decreto non è stato ancora convertito in legge. Entro il 20 di questo mese il decreto deve essere convertito e sarà convertito in legge, a quel punto lì avremo le indicazioni precise di come potranno essere fatti questi rimborsi. Tutto questo sarà fissato in legge e noi dal giorno dopo daremo precise indicazioni alle aziende perché saranno le aziende che gestiscono il servizio a dover provvedere al ristoro degli abbonamenti non goduti.